15 10 5 4 3 2 1 vai 50 sinistra 4 30 sinistra 2 lunga taglia poco 30 spiora sinistra 2 in destra 3 non tagliare apre 4 vai per sinistra 2 tonda sinistra 2 tonda dai subito cattivo Mattia per destra 5 taglia poco in sinistra 5 tieni dai 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 50 sconnessi alla pianta entra destra 3 veloce non tagliare attento chiude 30 anticipa entra sinistra 4 tieni deciso in destra alla pianta diventa destra 2 lunga apre 30 destri dai 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 alla pianta entra sinistra 2 tieni 30 destra 3 apre taglia poco sporca per sinistra 5 taglia tanto sì al cartello 40 sinistra allo specchio sinistra 2 tonda fai correre fai correre bene le staccate 50 destra 5 50 destra 5 per sinistra 5 tieni 50 ed era ritarda poco sporca destra 2 tonda taglia poco taglia tanto sì sinistra 5 per destra 5 apre piena per destra 4 inattento sinistra 2 sinistra 2 apre per non tagliare sinistra 4 dai cattivo in destra 4 apre giù giù 50 alla casa entra destra 3 tieni entra subito sinistra 3 corta tieni esci veloce ok 50 al cartello entra destra 4 lunga sconnessa in entra sinistra 4 deciso tieni 50 dai dai cattivo destra 4 tieni in entra sinistra 5 entra sinistra 5 30 giù pieno giù giù alla casa destra 3 tieni pieno lì Mattia sfiora sinistra 4 tieni bene in destra 5 lunga lunga tieni 50 giù giù che sta alla casa entra sinistra 4 tieni deciso taglia deciso giù giù 80 sinistri entra destra 4 rotta 30 al cartello entra sinistra 5 50 rotti sinistra 5 in destra 5 piena taglia in sinistra 5 lunga salta apre giù giù pieno qua 100 pieno attento sinistra 4 lunga salta alla fine compressione alla fine compressione 50 sinistri taglia si al vuoto entra antispettieni destra 4 taglia veloce in sinistra 5 in destra 4 sinistra 5 tieni al cartello destra 3 tieni taglia poco sacrifica 20 balla sinistra e destra scende per sinistra 3 tieni in destra 3 50 sinistra 4 taglia sporca dai Mattia cattivo sporca questa 70 rotti giù va 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 al cartello entra sinistra 4 sacrifica lì vai sull'erba 50 alle case a destra 3 taglia poco veloce 70 al cartello sinistra 5 attento molto rotta sacrifica in destra 3 cortatieni non tagliare in sinistra 4 10 tornate sinistro giù giù bene le staccate Mattia destra 3 vai in attaccati sinistra 3 30 rotti sinistra 4 tieni in destra 3 tieni taglia poco dai dai cattivo Mattia antispettacati sinistra 3 30 tornante destro dai cattivo 40 al palo tornante sinistro siamo sotto di 9 50 dai dai attacca attento stringe sacrifica sinistra 5 10 destra 2 attacca Mattia tutta qua per destra 2 stretta 50 al cartello sinistra 5 subito sacrifica attento sinistra 3 tieni taglia taglia entra destra 2 giù 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 destra 2 e sinistra 5 fai correre forse sporco dai 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 50 la pianta entra destra 4 deciso taglia poco sporco 70 destri arri frena balla sinistra 2 sporco sinistra 4 tieni sfiora balla destra sali raddrizzala questa al cartello destra 2 giù 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 tonda apre la fine 30 sinistra 2 ritarda tonda ritarda poco tonda per destra 3 tonda apre vai 50 dai cattivo entra sinistra 5 pieno deciso pieno deciso 80 al paletto sinistra 3 lunga chiude tieni bene 100 dosso stai a sinistra sporco destra 4 secca aggancia sporca sporca 30 giù che stai al cartello destra 3 tonda lunga veloce sporco aggancia si entra a sinistra 5 lunga piena fidati una merda 150 si destra 4 destra 4 tieni i coglioni Mattia qua destra 4 tieni 50 i coglioni giù giù entra sinistra 3 deciso 30 sinistra 4 lunga apre 5 fai correre attento al bidone chiude dai che sta giù 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 bidone chiude vai giù giù pieno pieno 150 Mattia al palo ritarda poco destra 3 lunga lunga tonda fidati di più Mattia dai cattivo 50 entra sinistra 5 50 a cartello stai largo ritarda sinistra 2 tonda scende per destra 5 apre dai bravo 200 alle piante attento entra destra 3 sporco tieni bene taglia poco taglia poco dai Mattia cattivo 50 50 molto rotti ritarda sinistra 2 tonda apre taglia taglia qua 50 destra 4 rotta taglia poco sporca in taglia sinistra 4 in sinistra 3 tieni molto rotta per terra destra 3 lunga lunga attaccati al rosso chiude poco al rosso chiude poco 30 si anticipa sinistra 4 taglia 30 destra 4 30 sinistra 3 lunga attento tieni 30 balla sporco destra 2 vai 50 destra 4 tieni sudosso 30 dai cattivo qua Mattia sinistra 4 dai taglia poco destra 3 veloce tieni bene 50 al cartello sinistra 3 lunga tieni qua bene cattivo 50 alla casa sporco ingresso destra 3 secca 100 destri alla casa entra sinistra 3 taglia veloce questa falla bene 50 rotti giù buttati vai sinistra 4 destra 4 rotta tieni subito sinistra 4 molto rotta in destra 4 tieni bene in sinistra 4 tieni bene 50 dai bene al palo tento sporco destra 3 aggancia 50 dai bravo Mattia sfiora destra 5 tieni in sinistra 4 lunga fine muro chiude 3 chiude 3 dai 50 giù giù sfiora destra sfiora sinistra 30 taglia poco destra 5 in sinistra 5 30 sinistra 3 tieni veloce 70 70 alle piante destra 4 occhio si 100 rotti alla pianta destra 4 lunga rotta salta dai dai cattivo cattivo alla casa sinistra 5 30 attento destra 2 tieni taglia poco in entra sinistra 3 tieni destra 3 lunga tieni taglia dai dai entra e tieni sinistra 3 30 tornante destro dai che siamo sotto di 15 50 sinistra 3 tieni sporco attento destra 2 sporchissima questa dai cattivo cattivo sacrificala si subito sinistra 3 apre alla pianta sinistra 2 tonda lunga 20 tornante destro 50 dai Mattia tornante sinistro dai 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 70 al palo destra 5 80 accenno destro attento scompone in ritarda al palo entra sinistra 3 attaccati bene dai dai Mattia dai 50 destra 4 chiude 3 tanto rotta 100 condossi giù che sta vai 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 alla pianta entra sinistra 4 tieni deciso per destra 4 sporco taglia sporco taglia 50 al palo sinistra 3 tieni lunga veloce taglia 150 salta dai qua la bella staccata al cartello tornante destro aggancia per destra 5 taglia poco taglia tanto si 30 finirei sinistra 3 100 al lampione attento dosso butta fuori attaccati destra 4 veloce aggancia 50 entra destra 3 non tagliare tieni 50 sinistra 3 su ponte 50 destra 3 lunga tieni sporco dai dai bene per sinistra 3 tieni dai 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 cattivo Mattia cattivo in destra 4 30 dai cattivo destra 2 tonda sporca top quanto zio? 34 prima? 48 cosa dici? dico che adesso mi hai ascoltato un attimino di più bisogna migliorare